In Italia viene uccisa una donna ogni 72 ore. Le vittime di stupro sono più di 650.000. 9 donne su 10 però non riescono a denunciare. C'era troppa urgenza di intervenire, per questo dovevamo approvare al più presto la nostra proposta sul Codice Rosso e sull'enorme antiviolenza su donne e bambini. Anche per incoraggiare le vittime a denunciare abbiamo pensato a una corsia preferenziale per le indagini. In questo modo chi ha subito violenze sarà sentito entro poche ore, così da poter bloccare subito l'aggressore ed evitare il peggio. Come al pronto soccorso, i casi vengono trattati a seconda dell'urgenza. Poi abbiamo previsto pene più forti perché si macchia di reatti così gravi. Fino a 7 anni di carcere per chi è responsabile di maltrattamento e stalking. Fino a 12 anni per violenza sessuale e fino a 14 anni per violenza sessuale di gruppo. In caso di atti di violenza sui minori, il carcere può arrivare fino a 24 anni. Il Movimento 5 Stelle ha voluto inserire anche la norma che allunga i tempi per denunciare l'aggressore per fatti di violenza. Non più 6 ma 12 mesi. Un passo così importante e delicato ha bisogno del tempo necessario per maturare. Nasce finalmente il reatto di revenge porn, una battaglia che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo condotto con impegno e passione. Basta impunità per chi rovina la vita di una persona lanciando nel fango del web sue immagini intime. La deformazione del volto con l'acido o un qualsiasi altro sfregio permanente vengono puniti poi col carcere da 8 a 14 anni. Questa nuova legge ha un significato importante e decisivo anche sul piano culturale. Alle donne e a tutte le vittime di violenza diciamo dovete essere liberi di vivere, liberi di vivere. Denunciate, lo Stato è dalla vostra parte. Anche di questa nuova legge parleremo a Italia 5 Stelle per festeggiare i 10 anni del Movimento. Vi aspettiamo il 12 e 13 ottobre alla mostra d'Oltremare a Napoli. Intanto non fate mancare il vostro supporto anche con una donazione.